Io ero come voi. Voi lavorate sodo. Fate quello che vi dicono. E la vita che cosa vi offre? Un panino di vergogna. Ogni persona in America è o un vincente o un perdente. Un vincente o un perdente. E se dovessi insegnarvi una cosa sola oggi, un concetto da portare a casa, sarebbe questo. Non siate dei perdenti, siate dei vincenti. Avevo una moglie, due bellissime figlie, una compagna perfetta. Grazie a Dio l'ho lasciata. Ora vivo con questi sette zuccherini e posso scegliere fra loro. Oh mio Dio. Questo qui mi capisce. Beh, è semplice. Non so perché Dio ci abbia dato dieci dita, perché ce ne servono soltanto tre. Fissa un obiettivo, fai un piano e muovi quel culo. Quale dei due sei, playboy? Io? No, quello seduto al tuo posto. Forza, quale dei due sei? Sono un vincente. Sarebbe una domanda? Sono un vincente. Cos'è il giorno di San Valentino? Dillo come se volessi braccarlo, scuoiarlo e appendere la sua testa al muro! Sono un vincente. Come? Sono un vincente! 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 Sono un vincente!